Ciao, sono Macraris, benvenuti e bentornati alla seconda lezione di introduzione a Excel. L'argomento di oggi riguarda l'inserimento e l'eliminazione delle celle, righe, colonne, premetto che ci sono vari modi di eseguire una stessa operazione in Excel, io userò quei procedimenti che ritengo più rapidi ed efficienti. Alcune celle contengono numerosi cancelletti, in quanto le colonne sono troppo strette per accomodare la lettura del dato. Come si vede in effetti dalla barra della formula, questo è un numero e questa è una data. Il testo è troncato se la cella destra contiene un valore, altrimenti si legge interamente. Questo problema di visualizzazione ci porta al nostro primo argomento, dimensione delle colonne e delle righe. Per adattare la larghezza di una colonna a suo contenuto, muoversi sul separatore destro, doppio clic. Per adattare la larghezza di più colonne, selezionarle, muoversi sul separatore destro, doppio clic. Allo stesso modo è possibile selezionare colonne non adiacenti, mantenendo premuto il tasto CTRL, doppio clic ed ecco fatto. In alternativa si può trascinare il separatore di colonna per adattare la larghezza. Vi invito ad esercitarvi allo stesso modo con le righe, valgono le stesse considerazioni. Per adeguare tutte le colonne di un foglio di calcolo, mi muovo sul triangolino in alto a sinistra, mi muovo sul separatore di qualsiasi colonna e tutte le colonne sono adeguate. Per calibrare con precisione la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe, andare sulla scheda home, gruppo celle, formato, potete così modificare l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne. Altezza delle righe, 20. Ora, per inserire una cella, per esempio in B2, ci posizioniamo in B2, clic destro, inserisci, selezioni di default, sposta le celle in basso, ok, notare come le celle si sono spostate in basso per consentire l'inserimento della nuova cella. In alternativa, si possono selezionare altre opzioni della finestra inserisci celle, per esempio, colonna intera, ok. Per eliminare invece una cella, facciamo le operazioni inversa, ma scegliamo invece elimina, sposta le celle in alto, ok, ritorniamo alla situazione precedente. Tavolta però, l'inserimento di una colonna o di una righe è più comodo, è più comodo usare il mouse. Seleziono la colonna, clic destro, inserisci, oppure seleziono tutte le due colonne, elimina. Per concludere l'argomento di oggi, per annullare un'azione utilizziamo il CTRL Z, mentre per annullare più azioni ci muoviamo nella barra rapido fare e sulla freccetta abbiamo la possibilità di annullare più azioni. L'annullamento di un'azione comporta anche questo tasto, si diventa selezionabile e si possono ripristinare diverse diversazioni precedentemente annulate. Per ora è tutto, l'argomento della prossima lezione verterà sulla manipolazione dei fogli. Grazie dell'attenzione, per ricevere aggiornamenti su nuovi contenuti, registratevi al mio canale YouTube. Commenti e suggerimenti sono apprezzati. Sono MacRaris e a presto per la prossima lezione. Bye!